8 marzo 2011 è il primo centenario della celebrazione del giorno internazionale della donna. Nonostante ci siano molti che lo ritengono soltanto un evento retorico con mimose un po' inutili, i verdi europei considerano che questa è una scadenza molto importante perché la liberazione della donna e i suoi diritti uguali non solamente a livello civile e politico ma anche a livello lavorativo è una battaglia che deve continuare e in un paese come l'Italia è ancora veramente necessaria. I verdi europei hanno spesso sottolineato il fatto che l'assenza o la scarsa presenza di donne nei posti di comando è anche il sintomo, il segno di una società sicuramente non avanzata, sicuramente non innovativa e non capace di rispondere alle grandi sfide che il mondo oggi ci pone, alle grandi sfide sicuramente ma anche alle grandi possibilità in termini di benessere, in termini di progresso realmente ecologicamente sostenibile. Noi riteniamo che ci siano tre priorità fondamentali sulle quali noi vogliamo e possiamo continuare a lavorare. La prima è la parità dell'accesso delle donne in politica, questo è un fatto che deve essere ripreso sia dalle leggi, dalle norme che dai regolamenti di partito. I verdi hanno da moltissimi anni una doppia testa, un uomo e una donna nei posti di leadership, questo è un elemento che noi riteniamo particolarmente importante per la qualità della leadership, per la capacità di essere davvero democratici e portatori di contenuti nuovi che deve essere estesa assolutamente anche agli altri partiti. Secondariamente il tema dell'accesso al lavoro attraverso la messa in atto di meccanismi di welfare che siano adatti alle donne, questo è un tema particolarmente complicato in un momento di crisi ma è praticamente l'unico modo attraverso il quale le donne possono recuperare un ruolo di libera scelta in società senza essere appiccicate semplicemente al loro ruolo di madri, di figlie e di badanti dei loro familiari malati. Il tema poi della partecipazione a un movimento mondiale di liberazione delle donne mi sembra particolarmente rilevante, oggi nel momento in cui le società del arabe vedono una forte partecipazione di giovani donne alla battaglia per la democrazia in quei paesi, una battaglia per la democrazia che noi dobbiamo accompagnare, sostenere e rispettare non pensando che questi temi siano semplicemente riservati a noi occidentali. Terzo elemento che mi sembra molto importante soprattutto per le donne italiane, per le giovani donne italiane è quello di riscoprire le grandi figure del femminismo nel nostro paese, cosa che è un po' dimenticata, spesso dimenticata, che viene spesso messa da questo club di reazionari che ci governa oggi in un ambito assolutamente negativo di persone che non hanno avuto uno sviluppo positivo personalmente e che quindi dovevano avere una specie di gioco di rivalsa nei confronti degli uomini. Il grande movimento femminista in Italia non è sicuramente stato solo questo, deve essere riscoperto dalle giovani donne per festeggiare nel modo degno questo centesimo anniversario del giorno internazionale della donna. Questo è tutto per oggi, alla prossima, ciao ciao!